parlavano dei nani. «È stata una dura battaglia, ma ne è valsa la pena», disse uno. «Però che razza di pellaccia dura hanno per proteggersi, ma scommetto che all'interno c'è del buon succo. E come saranno bocconcini da re dopo essere rimasti appesi per un po', disse un altro. «Non tenerli appesi troppo a lungo», disse un terzo. «Non sono grassi come dovrebbero. Mi sa che non hanno avuto granché da mangiare negli ultimi tempi. Ammazzali e basta, da retta a me», sibilò un quarto. «Ammazzali adesso e poi lasciali penzolare morti». «Sono già morti, te lo garantisco», disse il primo. «Non sono morti per niente. Ne ho visto uno muoversi proprio adesso. Stava tornando in sé, direi, dopo un bellissimo sonno. Adesso vi faccio vedere io». Detto questo, uno dei ragni corse su per un filo fino a raggiungere una dozzina di fagotti appesi, uno accanto all'altro a un ramo in alto. Bilbo fu pietrificato dall'orrore, scorgendoli ora per la prima volta, che si dondolavano nelle tenebre, con un piede di nano che sbucava dal fondo di un fagotto, o quella la punta di un naso, un pezzo di barba, un cappuccio. Il ragno si diresse verso il più grasso di quei fagotti, scommetto che è il vecchio povero Bombur. E dette un tremendo pizzicotto al naso che sporgeva. Ci fu un gridolino soffocato all'interno e un piede esplose dal fagotto per colpire il ragno con forza e precisione. C'era ancora in vita Bombur. Si udì un rumore sordo, come di un calcio su un pallone sgonfio, e il ragno incollerito cadde giù dal ramo, sostenendosi appena in tempo per arrivare a terra. Gli altri risero. «Avevi proprio ragione», dissero. «Quella carne è viva e scalciante. Adesso lo faccio smettere io», sibilò il ragno infuriato risalendo sul ramo. Bilbo vide che era arrivato il momento di agire. Lui non poteva certo arrivare lassù dove erano quelle bestiacce e non aveva niente da tirargli contro. Ma guardandosi intorno vide che in quel posto c'erano molte pietre, sparse in quello che sembrava il greto asciutto di un piccolo corso d'acqua. Bilbo era un campione nel lanciare i sassi e non ci mise molto a trovarne uno bello levigato, a forma di uovo, che si adattava perfettamente alla sua mano. Da ragazzo aveva l'abitudine di esercitarsi a lanciare pietre contro le cose, finché conigli e scogliattoli e perfino uccelli si allontanavano come fulmini dalla sua strada, appena lo vedevano chinarsi. E anche da grande aveva continuato a passare un bel po' di tempo giocando a lanciare anelli su palo, a scagliare frecce, a esercitarsi al tiro a segno, alle bocce, ai birilli e facendo altri giochi riposanti in cui ci fosse da gareggiare tirando qualcosa. In realtà era abile in molte cose oltre a saper fare anelli di fumo, cose di cui non ho avuto il tempo di parlarvi. E il tempo non c'è neanche adesso. Mentre lui raccoglieva la pietra, il ragno aveva raggiunto di nuovo Bombur, che presto sarebbe morto. In quell'istante Bilbo tirò. Il sasso colpì la testa del ragno, che precipitò giù dall'albero privo di sensi, afflosciandosi al suolo con tutte le zampe raggomitolate. La pietra successiva passò fischiando attraverso una grossa ragnatela, spezzandone i fili e togliendo di mezzo il ragno che vi stava seduto al centro. Abbattuto, morto. Dopo di ciò ci fu una notevole agitazione nella colonia dei ragni. E per un po' si dimenticarono dei nani, ve lo dico io. Non potevano vedere Bilbo, ma potevano indovinare con una certa esattezza da quale direzione provenivano le pietre. Veloci come fulmini, si precipitarono correndo e dondolando verso l'Hobbit, lanciando fili in tutte le direzioni finché l'aria parve piena di lacci ondeggianti. Bilbo comunque scivolò presto in un posto diverso. Gli era venuta l'idea di condurre i ragni furibondi sempre più lontano dai nani, se poteva, e di incuriosirli, aizzarli e farli arrabbiare tutto in una volta. Quando si lanciarono in cinquanta verso il posto dove si era acquattato, qualche istante prima, Bilbo prese a sassate loro e altri che si erano fermati più indietro. Poi, danzando intorno agli alberi, cominciò a cantare una canzone per farli infuriare e tirarseli tutti dietro. E inoltre, per far udire la propria voce ai nani, ecco cosa cantò. Vecchio ragno grasso e tondo che sull'albero provvedi, fili a tesser mi nascondo, e così tu non mi vedi. Sputa veleno, sputa veleno, al lavoro metti freno, e non tessere perché mai potrai prendermi. Forse non era niente di che, ma non dovete dimenticare che quella canzone aveva dovuto comporla da solo, sulla spinta di un momento veramente drammatico. Comunque ottenne più di quanto si era proposto, e mentre cantava lanciò qualche altra pietra, e batte i piedi. Praticamente tutti i ragni del circondario gli corsero dietro. Alcuni si lasciarono cadere al suolo. Altri passarono rapidamente di ramo in ramo, ondeggiando da un albero all'altro, oppure scagliarono nuovi fili attraverso le tenebre. Si diressero tutti verso il suono della sua voce, assai più rapidamente di quanto si fosse aspettato. Erano spaventosamente arrabbiati. Anche lasciando perdere le pietre, a nessun ragno è mai piaciuto sentirsi chiamare sputaveleno, e d'altra parte rimbambito. È un insulto per chiunque. Bilbo si spostò di nuovo, ma adesso molti ragni erano corsi in vari punti della radura in cui vivevano, e si davano da fare per tessere tele fra un tronco e l'altro. Di lì a poco lo Hobbit sarebbe stato imprigionato in un fitto recinto di ragnatele tese tutto intorno a lui. Almeno questa era l'intenzione dei ragni. Trovandosi ormai in mezzo agli insetti che gli davano la caccia e che tessevano. Bilbo prese il coraggio a due mani e intonò una nuova canzone. Pigro rozzo e ragno matto, te son fili per legarmi. Che boccon sono, che piatto, ma non possono trovarmi. Io sto qui, moschim briccone, voi dal corpo grasso e sfatto. Mai farete me prigione con quel vostro filo matto. Detto questo si voltò e scoprì che l'ultima via di scampo tra due alberi alti stava per essere chiusa con una ragnatela. Non una ragnatela vera e propria, per fortuna. Solo qualche grosso filo spesso e doppio, teso in fretta e furia fra un tronco e l'altro. Bilbo sguainò la piccola spada e, spezzati i fili, si allontanò cantando. I ragni videro la spada, anche se non credo sapessero cosa fosse. E immediatamente si precipitarono tutti insieme dietro Bilbo. Correndo per terra e sui rami, zampe pelose e ondeggianti, pinzecchelle scattanti, occhi roteanti, schiumando bava e collera. Lo seguirono nella foresta finché Bilbo arrivò in un punto oltre il quale non osò avanzare. Allora più silenzioso di un topo tornò indietro alla chetichella. Aveva pochissimo tempo a disposizione. Lo sapeva bene, prima che i ragni si stufassero e tornassero sui loro alberi, dove i nani stavano ancora aspettando. E in quel breve tempo doveva salvare i suoi compagni. La parte peggiore della faccenda era salire sui lunghi rami da cui penzolavano i fagotti. Non ce l'avrebbe fatta, credo, se non per fortuna, perché un ragno aveva lasciato pendere un filo. Con l'aiuto di questo, benché gli si attaccasse alle mani e gli facesse male, si arrampicò e si imbatté in un vecchio ragno lento e grasso che era rimasto lì a far guardia ai prigionieri e che aveva avuto un grande affare a punzecchiarli per vedere quale fosse il più tenero da mangiare. Aveva pensato di iniziare il banchetto mentre gli altri erano ancora lontani, ma il signor Baggins andava di fretta. E il ragno, prima di rendersi conto di quanto stava succedendo, si ritrovò infilzato e ruzzolò giù dal ramo morto.